Bene, allora direi che è arrivato il momento di aprire le danze. Come dicevo prima, è come se fossimo a teatro, quindi apriamo il sipario, anche se avete già visto un po' che cosa è successo dietro le quinte. A nome della Commissione Cultura del CAI Milano vi do il benvenuto e vi ringrazio per partecipare a questo evento questa sera. Come avete visto è un evento importante, importante perché ci sono tre ospiti d'eccezione che vado subito a presentare per entrare nel vivo della serata. Anna Torretta, Anna sicuramente già la conoscete, Anna è la prima e unica donna guidalpina della società di guide di Courmayeur che è la società di guide più antica e più storica a livello italiano. Anna è pluricampionessa per quanto concerne l'arrampicata su ghiaccio a livello nazionale, è stata vice campionessa mondiale nel 2006, sicuramente insomma la miglior atleta di questa disciplina per anni a livello nazionale. Eleonora Del Nevo, anche a te grazie di essere qui e benvenuta. Eleonora è un'esperta alpinista, nonché membro del famoso gruppo dei Rani di Lecco, sicuramente avete sentito parlare di lei per la scalata tramite la via Zodiac su El Capitan. E ultima ma non ultima, la super Dorota Vankoska. Dorota è una sommozzatrice palombara, che è un mestiere veramente tosto e pericoloso. Lei si immerge per centinaia e centinaia di metri sotto il livello del mare per gestire e mantenere piattaforme petrolifere. E vista anche la sua bravura, come avete visto dalla Locandina, è stata anche chiamata come supporter di camere per film underwater di film famosi hollywoodiani. Ma oltre alle nostre tre protagoniste, abbiamo questa sera un ospite d'eccezione. Come sapete parleremo di Whiteout. La casa editrice di Whiteout è appunto l'Oepli. e abbiamo il piacere di avere l'amministratore unico della casa editrice, Matteo Oepli, che insomma siamo onorati di avere qui. Lascio subito a lui la parola. Forse chi meglio di lui può introdurre il tema della serata. Quindi davvero grazie, perché per noi, per la città di Milano, visto che insomma l'avete fondata nel 1870, quindi a maggior ragione un vanto per la città e un vanto per tutta la nostra nazione. Bene, grazie mille Isabella, Eleonora, Anna e Dorota. Grazie mille ancora di essere nella nostra scuderia, come viene, si dice adesso in tutti i vari sport. Per noi è stato un grandissimo onore poter pubblicare un libro che non parla solo, come spesso la manualistica della Oepli, di come si fa una cosa, ma del perché e di quale spinta energetica, di quale coraggio ci vuole. E voi tre avete fatto un racconto meraviglioso di tre diversi, diciamo, discipline, sport, o nel caso di Dorota, addirittura è in verità un lavoro, no? Che tra l'altro appunto, dopo quello che è successo a Suez, capiamo quanto è importante sapere come funzionano tutte, un certo tipo di cose che spesso non vengono raccontate, come pozzi petroliferi ad esempio. e questo è molto importante perché spesso si racconta l'evento di per se stesso, ma non di come nasce. E un'altra cosa che in assoluto credo sia la cosa più bella che esista sulla Terra, voi l'avete fatto con una grandissima amicizia, che è il vero motore di tutto ciò che muove il mondo. Amicizia, l'amore, per le cose, per la natura, per il proprio lavoro, e spesso anche per la propria condizione, cioè ci si trova in condizioni, come sappiamo, non sempre perfette, succedono gli incidenti, ma poi ci si rialza e il rialzarsi è spesso uno dei perché poi le cose vanno avanti in tutto il mondo. Pensate che durante le guerre la stessa Öpli è stata completamente distrutta e mentre mio bisnonno raccontava beh, io ormai sono vecchio, torno in Svizzera, a proposito di Svizzeri, e mio nonno, che invece era giovane, ormai era nato in Italia, disse no, papà, io resto qui a Milano. E aveva di fronte tutta l'azienda che bruciava. E questi sono i momenti che cambiano le cose. Io non sarei qui se non ci fosse mio nonno che quel giorno avesse deciso di dire no, io vado avanti. E questo è quello che succede nelle vostre avventure che ho guardato su White Out meravigliose. Io sono a suo modo appassionatissimo di montagne, di buono Svizzero, quindi tutto quello che parla di neve, ghiaccio, scalate, per me sono sempre grandi emozioni. Dorota mi affascina perché ho letto abbastanza sui palombari in particolare, perché è veramente un lavoro stranissimo e molto difficile e pericolosissimo, tra l'altro. Perché io ho fatto il sub così, perché volevo, ero curioso, anche se non ho trovato nel sub la mia dimensione di avventura, perché voi non sapete, ma io sono un super avventuroso, ovviamente, quando ero più giovane. E ho trovato anche lì i miei momenti di sconforto, di coraggio, di situazioni dove dici, bene, è andata così, volevo farlo e adesso andrò via. Invece, incredibilmente, ti tiri fuori con qualcosa che è frutto di tantissimo, del cuore sicuro, della voglia di farci, ma anche dell'esperienza, di tante piccole cose che hai messo da parte nella tua attività preferita, nello scalare le cascate di ghiaccio, i picchi, fare team, sapere cosa sta per succedere. Immagino Dorota sott'acqua delle temperature, delle pressioni che dopo un secondo diventeresti un disco, lei probabilmente un mezzo secondo prima capisce e risolve la situazione. Quello è il momento in cui si distinguono coloro che veramente vogliono farcela e quelli che sono lì un po' mi hanno detto che va bene far questa cosa. Voi chissà nel vostro ambiente quanti ne avete incontrati, ma non perché poverini fossero, perché ognuno purtroppo poi viene dotato di quello che viene dotato. E quindi devo dire un libro che siete voi tre, però poi il libro lo racconta, perché il libro è quello strumento magico inventato in verità ormai tantissimi anni fa o circa 3000 anni fa dai sumeri sulla stele di Rosetta in cui hanno detto beh abbiamo questa conoscenza voglio passarla agli altri esseri umani. Quindi voi state passando questo vostro coraggio, questo modo di essere agli altri grazie al libro. Pensate che oggi noi dopo 2500 anni possiamo di fatto ascoltare Aristotele che ci spiega cos'è la democrazia. che non mi ricordo se voi sapete è forse la cosa più importante che esista. Senza Aristotele non avremmo codificato il modo di vivere tra persone e lui invece l'ha fatto e noi possiamo leggerlo ed è un libro. Quindi diciamo c'è questo mezzo magico del libro che non ha bisogno di pile, di spine, di antenne e quindi possiamo anche stasera come dire anche se siamo tutti a distanza ovviamente la prossima volta saremo tutti speriamo in Val d'Aosta mangiando quelle meravigliose specialità in qualche come si chiama chalet eccetera con loro vino molto interessante tra l'altro guardando ovviamente il Pic du Midi ovvio e quindi ce la racconteremo. Io per vostra curiosità la mia dimensione l'ho trovata dove probabilmente voi come dire vi trovereste meno bene perché è il luogo dove c'è meno acqua sulla terra che è il deserto il deserto del Tenerea in particolare che conosco a menadito se voi mi vedeste come io mi muovo nel deserto dite beh questo qui è un Tuareg più o meno ci sono arrivato ed ecco e quindi io ho trovato la mia dimensione estrema lì dove ho appunto fatto le ognuno di noi fa le proprie esperienze in verità simili come emozioni ognuno nel proprio settore nel proprio ambiente l'acqua la cascata nel Michigan non ho capito se siete poi andati io per esempio sono andato in Michigan su al nord a vedere effettivamente uno dei luoghi più freddi della terra come sapete Duluth che raggiunge temperature di meno 40 spesso bene allora io sono contentissimo di avervi presentato di aver introdotto un po' questa chiamiamola filosofia di vita che però è anche una filosofia di farcela e vi lascio la parola vi ringrazio ringrazio tantissimo il CAI che se la ÖP è un'istituzione il CAI è praticamente la super istituzione delle Alpi nel senso di tutte le montagne ma in particolare di tutte le Alpi con tutti i rifugi e c'è una sicurezza quando c'è scritto CAI sai che è una cosa da fare e quindi grazie a tutti voi che ci portate sempre racconti stimoli e poi noi in libreria ovviamente vi vendiamo benissimo tutte le varie pubblicazioni da voi o scritte sponsorizzate insomma tutte le varie cose approvate dal CAI benissimo grazie mille grazie Matteo per queste bellissime parole grazie grazie Matteo per insomma la sua testimonianza di vita di imprenditoria e riprendendo un po' le parole di Whiteout di speranza coraggio e audacia prima di dare due notizie a livello tecnico appunto l'introduzione è stata compiuta in maniera magistrale sicuramente da Matteo tengo a sottolineare che tutte quelle che sono le sfumature umane del libro dal Whiteout poi capiremo insieme alle tre protagoniste che cos'è fino ad arrivare diciamo ai colori più intensi più luminosi più sgargianti che poi sono i progetti che Anna Eleonora e Dorota hanno messo insieme sono appunto questi progetti che aiutano le protagoniste a venire fuori da quelli che possono essere i momenti di Whiteout momenti bui momenti di smarrimento ed è esattamente così che succede in montagna quindi in qualche modo il libro di Whiteout parla agli amanti della montagna e viceversa troviamo questi valori proprio come cultura dell'andare per monti quindi ancora una volta grazie prima di mandare diciamo così subito un video per entrare nel cuore della serata e per conoscere meglio le nostre tre protagoniste do solo due informazioni a livello tecnico la prima che vedrete vedrete e sentirete sia Anna che Eleonora Dorota la vedrete ma sentirete la voce di Paola Dotti che tra l'altro è responsabile della commissione cultura del CAI Milano Paola sa benissimo l'inglese quindi è proprio deputata a quella che è la traduzione quindi vedrete Dorota e sentirete la voce di Paola la seconda notizia a carattere tecnico è che durante la serata potrete acquistare il libro whiteout tra l'altro poi in chat verrà inserito proprio il link dell'Apli per appunto acquistare il libro chi lo desidererà e chi acquisterà il libro indicando a Corrado che chiedo di 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 farsi di palesarsi di farsi vedere lui raccoglierà Corrado raccoglierà nome cognome e indirizzo email delle persone interessate a comprare interessate a ricevere la dedica di Anna Eleonora e Dorota quindi non c'è bisogno che indicate a tutti il vostro nome cognome indirizzo mail basta che scriviate in chat personale a Corrado appunto il vostro nome cognome indirizzo mail appunto ho aperto il sipario ma adesso si va veramente in scena quindi chiedo alla regia di mandare il super video che poi inizieremo a commentare insieme con l'intervista nella speranza che il bello della perfetto Robby non si sente scusate qualche secondo per approntare la scena vediamo sì sì vediamoci un secondo è il bello della diretta si sente? aspetta che sto partendo no Robby voi sentite? no non si sente direi che si sente? no non si sente Robby vuoi riprovarti? se vuoi io posso commentare direttamente che dici? mettere l'audio che è in corso ancora meglio siamo nel primo incontro di Lola dove ci siamo incontrati appunto al Bronner sulla Skyway e poi siamo andati insieme a fare una passeggiata al Colflambò che era la prima volta che dopo l'incidente Lola ritornava sul Monte Bianco tra l'altro il Monte Bianco è stato il posto in cui il luogo in cui è nato Whiteout perché fisicamente abbiamo firmato il contratto con Marco per scrivere questo libro che in realtà non esisteva ancora era solo una storia raccontata a parole ed era una giornata di completo Whiteout e poi per motivi diversi è rimasto questo titolo che poi forse vi racconterò meglio dopo nelle immagini vedete un nostro viaggio a Cipro dove la Lola ha riprovato a scalare a modo suo la nostra idea è stata sempre quella di fare tutte quante la stessa cosa quindi cercare nelle nostre specificità nella rampicata su ghiaccio per me e nel lavoro di pallombaro e quindi nelle immersioni per DOT di fare qualcosa insieme a Lola quindi tutte e tre insieme quindi dovevamo fare un'immersione una scalata e poi una scalata su ghiaccio e quindi siamo andati a Cipro a provare a fare le immersioni e le scalate su roccia questa volta come prova la Lola provava a scalare su roccia e Lola parla molto in questo video ma forse è arrivato l'audio nel frattempo questi sono i primi questi sono i primi tentativi di ice sliding che abbiamo fatto a Cogna e ne parleremo un po' più approfonditamente durante la chiacchierata è una cara di deficienza però escepcionamente challenging work life-changing accidents e la motivazione non 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 give up white-out è è una caratteristica è una caratteristica di amore e una caratteristica è una caratteristica in cui partecipava anche Lola e a fine conferenza ci siamo incontrate e ci siamo un po' subito piaciute, abbiamo trovato qualcosa in comune tra di noi e abbiamo deciso subito di fare un progetto insieme, di unire le nostre qualità, quella dell'arrampicata, quella dell'immersione ridotte e quella per l'acqua e di coinvolgere anche Lola e quindi così è nato un progetto. L'idea delle emissioni è nata perché ovviamente DOT è una subacquea bravissima e avevamo deciso di fare ognuna l'attività delle altre per cui sia io che Anna ci siamo messe per imparare a fare emissioni anche se siamo ancora in ballo e perché il progetto finale sarà proprio fare un viaggio tutti insieme e unire gli sport. L'immersione è un po' una scoperta per me è un po' un po' un po' di spazio e per Lola, però ci siamo fidate di Dot e mettendoci nelle sue mani è iniziato questo viaggio verso Cipro dove abbiamo scoperto come funzionano esattamente le bombole sott'acqua e l'immersione però anche un'immersione nel progetto stesso e l'idea di fare una cosa insieme. Grazie a tutti sentirmi libera come il dato sentirmi libera sentirmi libera e poter fare le mie attività sentirmi libera non è solo 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 Grazie a tutti. Bene, grazie. Grazie a tutti. 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 Buia o bianca, se vogliamo, di white out. E questo è quello che ha dato il nome al libro. Ma combinazione, quello che vi dicevo nell'introduzione, per chi c'era, chi ha sentito, noi ci siamo trovati con l'Epli, con l'editor dell'Epli, con Marco Borrelli a punter bronner, in una giornata di completo white out, quando abbiamo firmato per fare il libro. E da quel giorno abbiamo avuto una chat tra di noi che si chiamava appunto white out, combinazione. E alla fine abbiamo unito i white out e abbiamo deciso che era il nome giusto per il libro. Nel libro vengono raccontati tre white out completamente diversi, psicologici, il mio di Dot e di Lola. Il mio è quello forse meno grave, dove dopo la seconda operazione al ginocchio sono sul divano e sto scrivendo il libro, tra l'altro. E mi chiedo se riuscirò ancora ad andare a lasciare con le mie figlie. Quello di Dot si trova incastrata in una galleria sotterranea nell'acqua, qualche mare del nord, e non riesce più a scastrarsi. Insomma, se non sarebbe, se non fosse riuscita a uscire, non so se era qua. Non sarebbe stata qua con noi a raccontarcelo. E quella di Lola è quello successivo al suo incidente. Lola poi forse può dirlo lei. Nel 2015 è caduta da una cascata di ghiaccio, è caduta la cascata stessa, con la sosta, con lei e i suoi due compagni sono finiti a terra, lei ha avuto le conseguenze peggiori. Insomma, da quel giorno è rimasta paralizzata dalla vita in giù. E quindi ha dovuto ricominciare una nuova vita. E questi sono i nostri tre white out da cui parte il libro. Proprio da questi white out da cui appunto parte il libro, si nota nella narrazione questa, diciamo così, questo litmotiv, che è la vostra fortissima amicizia, che se vogliamo è anche uno degli ingredienti più belli per colorare il white out di ognuna di voi. Quindi volevo chiedere anche a Eleonora qual è l'ingrediente della vostra amicizia. Secondo, secondo lei, che cos'è la cosa più bella della vostra amicizia? Guarda, allora innanzitutto, grazie per la serata. Sicuramente tutti i nostri progetti, dal libro ma anche dai nostri piccoli, diciamo, avventure che abbiamo vissuto fino adesso insieme, sono nate fondamentalmente da questa sintonia che abbiamo avuto tutte e tre fino da subito. Per cui direi che la nostra amicizia è stata ed è nata da quell'incontro che abbiamo avuto con Dota Chamonix, perché poi Anna, come mi ha raccontato, io l'avevo già conosciuta, la conoscevo già. Però come tutte un po' credo le grandi esperienze che uno può avere sono vissute soltanto con quelle persone con cui c'è questo grande feeling, sintonia, fiducia e che se vogliamo riassumere poi è un'amicizia, perché senza di quella secondo me non ci sarebbe né l'iniziativa di fare cose insieme, né quello spirito che ti spinge a stare insieme tanti giorni, perché poi comunque dalla montagna alle viaggi per fare immersioni, al viaggio che noi ci siamo proposte di fare, sono tutte comunque cose che richiedono molto tempo da trascorrere insieme, quindi credo che senza questo filo conduttore non saremmo andate proprio da nessuna parte. Poi per me personalmente direi che è fondamentale sempre di più, ti dico sinceramente da dopo l'incidente riuscire ad avere in fianco persone così, perché in un modo molto positivo ti spronano a fare, per cui senza questi appoggi diciamo forse sarei un po' più lavativa, per cui credo che sia tutto poi un bel insieme, e quindi un po' una bomba esplosiva guidata dalla Anna di sicuro, che bisogna sedarla sempre. Guarda qua, mi ha inviato, chissà se si vede, mi ha inviato, no si vede, si si vede, si vede, si vede, mi ha inviato in diretta Marco Borello, accidenti c'è una luce che va, come mai prima si vedeva adesso non si vede più, ah perché è andata, è arrivata, quella giorno di white out appunto al Bronner, ve lo ricordate? Qua eravamo fuori dal Torino, abbiamo tentato di fare un appunto. Esatto, questo è il giorno in cui è nato il libro praticamente, in cui è stato firmato il contratto del libro, il giorno di white out, me l'hai inviato adesso Marco. Esatto, si si. Edotte era collegata con noi via WhatsApp, perché era su un offshore, però era via per lavoro, ed era su una di queste grosse navi con cui fa la manutenzione dei pozzi petroliferi. Infatti entriamo un po' più anche nel mondo di Dorota, perché forse c'è un po' più vicino il mondo della montagna, anche se ovviamente poi le cascate di ghiaccio rivestono un fascino molto forte, ma il mondo di Dorota, quindi il mondo delle profondità marine, delle profondità oceaniche, c'è un po' invece sconosciuto. Quindi la prima domanda per te Dorota è sostanzialmente com'è il tuo lavoro, in che cosa consiste il tuo lavoro e anche come lo gestisci a livello proprio di rischio, di emozione, cioè che cosa significa per te. Adesso diamo il tempo anche a Paola di tradurre e poi sentiremo la traduzione di... Emotionally you actually manage the challenges of your job. Yeah, if you can, then I can translate if you want. Yeah, so, well, I love the mountains, I'm a big mountaineer climber too, but it's always water and mountains were together in my life. Okay? So, quindi Dorota dice che lei adora le montagne, adora sia le montagne che il mare, le ama entrambe, la sua vita è una cosa, è una bilancia che va un po' sulla parte del mare e sulla parte della montagna. Quindi, per lei andare a fare il suo lavoro sotto l'acqua e nell'oceano è come andare in montagna, è un'avventura allo stesso modo. It is like, for me it is like being in the space, just everything is very heavy. you've got heavy helmet, suit, a lot of water above you and, you know, it's all like almost crushing here. E quindi è come andare nello spazio perché la tuta che si deve mettere è pesantissima e che si deve muovere in maniera molto particolare e che si deve muovere in maniera molto particolare per cui è molto complicato, è un po' come essere nello spazio. e quindi praticamente deve passare tantissimi giorni, tantissimo tempo in queste grandi navi che però sono anche in un certo senso piccole e lavora 12 ore al giorno costantemente per cui è molto complessa la cosa. e a volte è praticamente obbligata a lavorare tutta la notte e per cui poi deve dormire di giorno quindi è anche sfasata da un certo punto della giornata, insomma. And job, job is very often last minute so you have to change your plans, cancer holidays, but from other side is the big challenge, is something you really want to do, like you're going, you know, it would be hard, but you like it. and you're still going, you know, it can be hard, you know, it can be dangerous, but you're still going and do this, probably like you go up the mountains and climb some hard climbing. E quindi è pure anche se è difficile, se è complicato, lei pensa che sia la stessa cosa dell'andare e scalare una grande montagna, se sono sensazioni. Ok, thank you. Grazie, grazie a te Dorota, tra l'altro penso che dopo le tue parole la mia ammirazione da 1 a 100 è 10.000 e penso così anche le oltre 70 persone che ci stanno ascoltando, quindi davvero. Mi stanno chiedendo il link per prendere il libro, io adesso qualcuno prima o poi lo metterà. Sì, adesso provvediamo, adesso provvediamo. Dicevamo, abbiamo iniziato a parlare un po' di cascate di ghiaccio, siamo passate alle profondità marine, ci manca un qualcosa che abbiamo visto durante il video, quindi la sliding sostanzialmente e chiedo a tutte e tre le protagoniste, chi vuole o tutte e tre insieme come meglio desiderate, di raccontarci un po' questa disciplina che nasce con voi. Si comincia? Beh, guarda, ti dico l'aneddoto iniziale che a me piace sempre raccontarlo perché poi come tutte le cose è nata in realtà un po' per scherzo perché Anna, ero andata a trovare Anna e siamo andate al palazzetto del ghiaccio, ovviamente lei si era portata dietro le picche e quindi abbiamo fatto questa prova veramente tra due risate, tra una chiacchierata e due risate in cui su palazzetto del ghiaccio ci siamo fatte dare un piccolo spazio e abbiamo detto dai proviamo a vedere se in orizzontale riusciamo a utilizzare ancora queste picche perché in verticale sarebbe stato troppo pericoloso quindi abbiamo detto proviamo in orizzontale e da lì è nata questa idea poi diciamo che è esplosa nell'idea nella mente della Anna e l'abbiamo portata anche a livelli più alti anche perché Anna lavora tantissimo con la montagna terapia e in effetti questo è un modo carino, giocoso, sportivo, dipende poi sempre da come si prendono tutti, da che punto di vista si prendono gli sport per avvicinare però anche i disabili con disabilità fisica anche grave al ghiaccio per chi è curioso di magari provare questo sport che si vede sempre un po' come qualcosa di difficile da fare e in realtà con questa idea è diventato fattibile anche per chi ha una paralisi quindi per uno che magari vuole viversi la montagna diciamo a 360 gradi potrebbe essere una di quelle cose da provare Anna adesso sta mostrando una delle foto che abbiamo fatto Sappada giusto ormai un anno fa che è stata un po' una prima competizione in realtà la seconda perché la prima raccogna una competizione di high sliding dove abbiamo partecipato diciamo sia ai norma che ai paralizzati posso far partire le foto se volete? sì grazie la cosa carina è che comunque veramente noi stiamo cercando di promuoverlo come sport e vabbè adesso poi l'anno 2020 è stato difficile per tutti perché tutti gli eventi sono stati un po' bloccati quindi è stato mostrato diciamo a Cogne durante anche lì il raduno dell'ice climbing e questa prima gara invece Sappada se non sbaglio gennaio febbraio 2020 per cui questa era la nostra idea di promuovere un po' anche lo sport su ghiaccio questo sta partendo il video? non so no mi sa che sta cercando di condividere le foto ma va la condivisione va va in blocco intanto volevo dire a tutti che è stato inviato via chat zoom il link tramite cui è possibile acquistare il libro quindi lo trovate proprio in chat è stato CAI Milano che ha condiviso il link così almeno abbiamo dato giustamente il seguito alla richiesta e ricordo anche che chi fosse interessato poi manda nome e cognome e anche indirizzo mail a Corrado quindi chat personale Corrado scrivete nome e cognome e indirizzo mail quello che volevo ancora dire riguardo la S Sliding che vuole essere uno sport inclusivo dove non fai la categoria dell'atleta e del paratleta ma dove tutti quanti potevano competere sullo stesso livello e questo è un po' lo spirito per cui è nato la S Sliding assolutamente lo vorremmo portare alle prossime olimpiadi non parolimpiadi olimpiadi assolutamente e sarebbe anche un bellissimo messaggio quindi speriamo proprio che sia che sia così con Wait Out avete insegnato che i sogni insomma possono davvero diventare realtà e che con tanta grinta coraggio con determinazione anche veramente con rapporti di relazione di amicizia si possono veramente fare cose impensabili quindi ce lo auguriamo e lo speriamo hai terminato tu la risposta e l'altra domanda era per te Anna perché diciamo l'ha detto Eleonora l'ha detto Eleonora e traspare anche tantissimo nel libro questo essere appassionata della vita il desiderio di progettare e realizzare i sogni ti chiedo che ruolo ha avuto l'amore per la montagna in questo tuo atteggiamento di vita ti ha aiutato ti ha facilitato è stata in realtà una conseguenza cioè in che valore ha nella tua vita l'essere guida alpina essere guida alpina o l'amore per la montagna o tutte e due tutte e due no vabbè io ho sempre voluto diventare guida alpina lo dico sempre quando avevo 15 anni mi hanno chiesto cosa volevo fare da grande ho detto che avrei fatto l'architetto e la guida alpina e fu una guida alpina chiedermelo ed era un po' scettico sul fatto che avrei fatto la guida alpina e un po' più sicuro sul fatto che avrei fatto l'architetto in quanto mio papà era architetto e poi in realtà sono riuscita a fare le cose entrambe cercando di sempre unire queste due cose e l'amore per la montagna mi ha portato ad andare a Innsbruck a lavorare da un architetto dove poi ho fatto il corso guide e il corso guide per me un primo tempo era un po' la massima aspirazione a livello alpinistico il massimo riconoscimento che potevo avere in quel momento poi è nata la passione per l'insegnamento è venuta successivamente ecco non è che sono ho fatto la selezione per il corso guide perché morivo dalla voglia di insegnare come si fa andare in montagna poi negli anni è venuta fuori ed è proprio è nata la passione di portare delle persone da A a B da portarle dal piano in cima al dente del gigante dove nessuno si sarebbe mai avrebbe mai pensato di arrivarci o in cima al monte bianco ecco per fare solo degli esempi e questi valori da trasmettere li trasmetti a tutti i tipi di clientele che sono molto diversi tra di loro dall'avvocato al commercialista piuttosto che al carabiniere o agli studenti del liceo di Courmayeur o appunto ai ragazzi di montagna terapia che ho avuto in particolare ai ragazzi autistici o quelli del dipartimento di salute mentale ecco tutti quanti hanno un obiettivo e lavorare insieme cioè è molto stimolante come lavoro perché è sempre sempre diverso devi inventarti sempre delle cose nuove anche se in realtà sei sempre in montagna però la montagna anche lei stessa non è mai uguale un giorno all'altro da un giorno all'altro è sempre diverso certo tra l'altro tu lo sai io te lo dico sempre ma c'è questa frase dell'altro tuo libro che dice ogni vetta sa di te ciò che ancora tu ciò che ancora tu non sai che secondo me è proprio una frase stupenda e che racconta veramente tantissimo un po' dello spirito della montagna Anna perdonami la tiro sempre fuori ma penso che sia un'illuminazione interiore non solo per me ma per tutti coloro che davvero amano andare in montagna e tu trasmetti questa cosa veramente in maniera forte prima di passare all'altra domanda perché qualcuno mi chiede giustamente di Corrado è Corrado Giambalvo dovreste trovarlo proprio è tra i membri diciamo così relatori dovreste proprio trovarlo fatemi sapere e fateci sapere in chatta se non lo trovate però scorrendo diciamo negli organizzatori nei partecipanti dovreste trovarlo e lì scrivere in maniera personalizzata a lui nome e cognome e mail se avete problemi ovviamente c'è una sua chat che viene fuori esatto esattamente scusate questa interruzione ma perché ci stavano chiedendo questa cosa di carattere tecnico ci sembrava giusto dirla bene ecco diciamo che nel video abbiamo visto anche tanta voglia di avventura e quindi chiedo a Eleonora chiedo a Eleonora il suo ricordo più bello magari di un'avventura di un qualcosa fatto insieme e perché per lei è il ricordo più bello beh guarda la cosa più bella quando penso a tutte le salite fatte sicuramente una salita al Monte Bianco quindi zona Anna che ho fatto in realtà con una delle mie più care amiche eravamo solo io e lei quindi la la titta che Anna conosce una ragazza un po' pazzerella e abbiamo fatto questa via di miso insieme in giornata decidendo la sera prima perché abbiamo guardato il meteo abbiamo detto cosa fai domani posso prendere il giorno ok andiamo deciso così partite le 3 di notte tornate a mezzanotte fatto una via al bianco in 24 ore contente come delle mine per cui quelle giornate così spensierate quando parti vai via va tutto bene il viaggio va bene avvicinamento va bene la via impegnativa è giusto ti concentri scendi con tuoi sci torni a casa bellissima per cui proprio una giornata poi un tempo perfetto cioè condizioni perfette in montagna non c'è stato un problema è fantastica quelle giornate così penso che siano proprio quelle un po' più indimenticabili quelle giuste che capitano ogni tanto insomma sì brava sì brava cioè trovare che va tutto bene è raro insomma anche la via non facilissima ma nessuno ha avuto problemi no bello 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 intrigante il giusto certo e legato invece con Anna e Dorota un ricordo diciamo di un qualcosa di fatto insieme un 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 avventura un progetto un qualcosa di pazzo non so beh Anna sicuramente la prima volta che mi ha portato mi ha riportato al bianco di sicuro anche perché non ne sapevo assolutamente niente ha fatto tutto lei tra l'altro è riuscita a portare anche mia sorella che non è mai voluta venire in montagna con me Anna ci è riuscita anche in quell'occasione erano le immagini che scusami erano le immagini che scorrevano nel filmato vai 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 sì è vero è vero è vero sì sì e con Dorota sicuramente la l'immersione che aveva fatto a Cipro perché da tutta la mia prima esperienza c'erano lei e il suo compagno Peter che sono stati di credo grande supporto per me e Anna che non avevamo mai fatto un'immersione in vita nostra invece loro con molta semplicità e umilità ci hanno accompagnato in questo viaggio anche perché io avevo fatto qualche lezione in piscina sto cercando di avere questo brevetto che è stato interrotto più e più volte dai blocchi delle piscine per cui poi per me affrontare anche il lato subacqueo non è stato così semplice adesso Anna e Dorota rideranno di sicuro perché si ricorderanno le mie scene per riuscire ad andare le prime volte sotto un metro due metri d'acqua che mi sembrava una cosa impossibile l'impressione di respirare con l'erogatore che ancora ce l'ho per cui vabbè è stato un po' no è stato bello poter fare questa prima immersione con loro perché comunque da un lato ti mette sapere che ci sono loro molto esperti amici che comunque ridendo ti trovi già in acqua senza dover pensare a quello che stai facendo aiuta no quello bello certo eh sì proprio poi se vogliamo no per superare i propri piccoli anche white out il ruolo dell'amicizia è una cosa molto molto importante ma sì perché io da sola non avrei mai provato forse probabilmente neanche uno sport del genere no quindi sono quelle cose che ti fanno spingere quel po' più in là le tue esperienze e crescere quindi certo ci sta di brutto bellissimo guarda rimaniamo proprio su sulle immersioni perché diciamo anche come come Caio come persone che come persone che vanno in montagna conosciamo un po' più l'emozione di toccare la vetta di toccare un picco conosciamo un po' meno l'emozione di andare in profondità quindi volevo chiedere a Dorota che emozioni lei prova quando va così tanto sott'acqua cioè quali sono le sue emozioni quali sono i suoi il suo sentire nel momento in cui tra l'altro Dorota si occupa tra virgolette di entrambe le cose perché appunto ce l'ha detto no è palombara ma scala anche quindi volevo capire se c'erano delle differenze quali erano i sentimenti le sue sensazioni quando era così come si suol dire in basso adesso un attimo la traduzione di Paola ok 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 yes it's it's not easy but it comes with experience so it's a time when you like put this helmet on on your head you know they lock it down and then you start to hear your breathing like heavy slowly ok vediamo se Paola traduce scusate saz diceva che è molto complicato perché all'inizio quando l'equipaggiamento è molto pesante quindi quando si mette nel metto c'è questa sensazione strana perché si comincia sentire il suo respiro molto pesante porgo e Dorota and at this moment everything change you're just kind of getting in the completely different world it's like state of meditation concentration emergency everything else disappeared e a questo momento e tutto scompare tutto il resto scompare perché entra in in questo stato mentale di concentrazione quasi di emergenza che chiaramente non è solamente un diving commerciale per cui molto profondo sì you have to be you have to be very focused you are very focused and you cannot do mistake it all comes with the experience and you're trying to do your best you you're listening whatever they talk to you you know you focus on the work so much you're trying to keep everything right e quindi lei deve essere estremamente concentrata perché chiaramente si immerge per lavoro per cui ha un lavoro da fare deve ascoltare le istruzioni che gli vengono date deve controllare e essere costantemente on the job cioè sul lavoro molto concentrata e it is all about managing the risk that you you always visualize before you die what can happens and how to how you would deal with it and be ready for it the most important is don't panic and there's there's only solutions it's only you or your experienced colleagues which can help you in the situation e quindi devi essere molto concentrata e non ci sono problemi cioè devono essere solo soluzioni devi essere in grado di vedere con lucidità la situazione per trovare soluzioni perché sei lì sotto sei tu e i tuoi colleghi sopra che ti possono aiutare nessun altro so it's the risk is in every everyday life and we have to be we have to be ready for it and you know we have to we have to get find the best the best situation to get out of it and can be up the mountains or on the street you know after after every dive I come back I'm just exhausted it's not only physically but mentally but every come back is good that's why that's why I get so friendly with Anna and Lola because I think for me they are both heroes because they also are in a very unusual situation and they deal with it very well so yeah it's the reason why she is so well and in sintonia with Anna and Lola because they have the same sensations both are going to manage complex and need the same type of so they are praticamente the same things grazie grazie a te grazie a te e in effetti ed effettivamente da quello che ci racconti le profondità oceaniche o le alte vette sono danno un po' le stesse sensazioni ovviamente su diciamo scalate anche di un certo tipo e di un certo e di un certo livello bene diciamo che l'elemento acqua che un po' vi contraddistingue in modi diciamo così differenti è un elemento però in comune e che è un elemento ricorrente in wait out come anche la vostra la vostra amicizia allora chiedo ad Anna perché poi Anna è come si sui dire è un po' la regina della cascata di ghiaccio che cos'è per te che cosa significa per te l'elemento ghiaccio ma che cosa soprattutto significa per te andare a scalare una cascata di ghiaccio quali sono le tue emozioni e se hai cambiato questo rapporto con questo elemento nel tempo o sei rimasto quello di sempre ecco quello dell'inizio ma io sì odio il ghiaccio è sempre diverso è quello che mi ha sempre attirato dall'inizio è scoprire la forma del ghiaccio il colore stesso del ghiaccio è una cosa che mi ha sempre affascinato il ghiaccio solo salendo scopri la forma dell'acqua ecco e poter salire una cosa che d'estate è liquida e si muove ed inverno sembra che si fermi ma in realtà non si ferma perché se non ci fosse acqua sotto la cascata cristallizza diventa fragilissima e muore quindi l'altro aspetto che il ghiaccio mi attira ma l'acqua mi ha sempre fatto molta paura sotto una cascata di ghiaccio perché sentire lo scorre dell'acqua vuol dire scalare una cosa che si sta muovendo in realtà ed è una cosa che fa impressione soprattutto quando le cascate sono molto sottili e può capitare che di bucare il ghiaccio e vederlo uscire e vedere l'acqua uscire dal ghiaccio sì forse le cascate più paurose sono quelle più sottili che ho salito dove vedevo scorrere l'acqua sotto io mi sono sempre avvicinata con grande timore a praticamente tutte le cascate che ho salito c'è questa doppia sensazione di paura e attrazione che ti porta ad avvicinarti alla cascata perché non sai mai come la trovi in realtà che cosa non è come una via di roccia che così il passaggio è sempre uguale invece il ghiaccio può sempre riservarti delle sorprese però dall'altro lato non mi faceva paura rispetto alla roccia perché su ghiaccio puoi mettere una protezione dove quasi dove vuoi quando ne hai bisogno quindi puoi metterti un chiodo nel posto in cui lo desideri e sì quello che mi ha sempre tirato sulle cascate di ghiaccio è lo scoprire scoprire cose nuove ed è il motivo per cui lo faccio ancora adesso scoprire nuovi posti con nuove cascate gelate non solo non solo ghiaccio anche un po' di dry diciamo ma un po' di roccia e ghiaccio messe insieme che è la mia specialità quella che negli anni è diventata oltre il ghiaccio la mia specialità che poi purtroppo anche con un cambiamento climatico così insomma veloce sicuramente poi insomma il dry tooling pensi che potrà essere diciamo il futuro a livello di utilizzo di piccozze ramponi ma speriamo di no però tuttavia la stagione del ghiaccio si restringe sempre di più dai tre mesi tre mesi e mezzo ormai si è ridotto a due mesi se non un mese e mezzo quasi che si può fare ghiaccio perché la stagione è sempre più corta e quindi se uno vuole continuare a praticare tenersi in allenamento si rivolge al dry tooling e forse i giovani sono più attratti al dry tooling in quanto è uno sport più protetto più simile alla rampicata in falesia in quanto se viene fatto su su speed non non ha i pericoli oggettivi che può presentare una cascata di ghiaccio tuttavia non è proprio fare una cascata in falesia è qualcosa di norme di sicurezza bisogna bisogna sapere come indossare sempre il casco ad esempio perché il casco il ghiaccio comunque cade dall'alto e se c'è una stralatita appesa può sempre cadere qual è la cascata di ghiaccio che ti ha lasciato diciamo un ricordo più emozionante nella tua nella tua nella tua vita insomma quella che ricordi con più più paura e attrazione visto quello che hai detto con questo mix tra le due cose ma sicuramente è stato un grande regalo che hanno fatto i turchi durante il primo meeting di arrampicata su ghiaccio in Turchia a Erzurum nel nord-est della Turchia non c'era questa spada di ghiaccio nella roccia proprio era una spada stretta e alta a 100 metri esatti che non era mai stata salita e sembra impossibile da salire per quelli che abitavano lì ma anche per gli stessi turchi e io e la la mia compagna con cui ero andata al meeting Cecilia Buil la spagnola l'abbiamo salita l'abbiamo aperta è stata un'emozione incredibile anche perché siamo un po' diventate le beniamine del festival perché una un'accordata femminile che riusciva a salire in un posto in cui un luogo in cui la figura della donna non è certo quella che viene vista in occidente da noi abbiamo portato un valore aggiunto un valore molto aggiunto un valore in più a tutto il festival e questo è un po' il significato anche di tante altre spedizioni al femminile che ho fatto in paesi dell'Oriente grazie insomma per aver condiviso queste la cascata si chiama Anatolia Pillar perché è in Anatolia però in realtà è l'anagramma di Anna e Cecilia Anatolia Cecilia bello Anatolia Pillar ok non c'è la foto vabbè la faccio poi vedere forse ce l'ho la foto o magari intanto che continuiamo a riuscire a recuperare sul libro ok si si vede si vede poi chi ha il libro la vedrà ancora meglio esatto tra l'altro vediamo se riusciamo a far vedere un po' di vostre non c'è non c'è no però rispetto magari a quello che ci siamo detti tra l'altro colgo l'occasione perché lo ha scritto ormai il famoso Corrado visto che l'abbiamo citato tante volte che ha lasciato nella chatta di tutti anche il suo indirizzo mail per cui chi fosse interessato ad acquistare il libro può scrivere direttamente al suo indirizzo mail ripeto con nome e cognome e indirizzo mail della persona così riceverà una dedica personalizzata da parte di Anna Eleonora e Dorota intanto che Roberto cerca di far vedere e se si riesce a vedere le foto oltre che il video stiamo parlando sempre appunto di emozioni nella propria diciamo così nella propria pelle nella propria specialità allora chiedo a Eleonora che significato ha per te essere un ragno di lecco beh guarda per me è stato uno dei riconoscimenti più belli a livello alpinistico perché i ragni di lecco li ho sempre seguiti credo vabbè sono li li conosce chiunque persona si sia approcciata alla montagna penso perché dagli storici soprattutto sono gli alpinisti credo che hanno davvero fatto delle grandi esplorazioni le prime grandi salite le prime vie quindi hanno avuto sempre dei personaggi molto carismatici al loro interno si sono molto appoggiati come gruppo roba che ha permesso appunto di fare anche grandi spedizioni in passato magari adesso è più facile ma se si pensa agli anni 70 80 per non dire prima sicuramente non era così facile andare in spedizione soprattutto con i materiali di allora non era così facile cercare di conquistare nuove vie o determinate montagne per cui ho sempre un po' avuto questo mito soprattutto il mio idolo è sempre stato Bonatti quindi figurati che è stato anche ragno di Lecco per cui il fatto che tutti i ragni abbiano un po' diciamo riconosciuto il fatto di poter avere l'onore efficienza di farne parte per me è stata tantissima roba se poi conto che diciamo il mio ingresso è stato dato dal Dino Piazza cioè proprio mi sciolgo perché non penso ci siano bisogno di presentazioni ma sono un grandissimo alpinista e nonostante aver riconosciuto diciamo tutta l'esperienza sua dei suoi compagni della storia dei ragni mi ha veramente fatto un discorso diciamo di entrata spaziale perché ha riconosciuto questa mia passione questa volontà comunque di cercare ancora di condividere la montagna nonostante il mio incidente secondo me il fatto che questi grandi alpinisti hanno riconosciuto anche questo lato è stato molto lusinghiero per cui vabbè io penso che si capisca che sono molto 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 grata e onorata di farne parte poi adesso ovviamente ci sono ragazzi molto giovani molto impegnati nello sport nell'arrampicata in tutto il gruppo che stanno facendo grandi spedizioni con qualcuno magari poi ovviamente qualcuno lo conosce meglio altri magari non avevo così tanto modo di frequentarli perché ormai credo che a livelli dei ragni siamo sulla novantina io sono la seconda donna perché la prima è la Giovanna Pozzoli che è una donna straordinaria sia umanamente che poi ovviamente a livello di arrampicata per cui la cosa bella è stata comunque trovare nonostante l'alto livello alpinistico anche queste persone molto umane con lo spirito molto umano e che si mettono un po' credo proprio ti fanno sentire sulla stessa linea d'onda quindi è molto bello e a proposito di questo la tua esperienza nella scalata alla via zodiac qual'è stata la tua emozione se ci vuoi raccontare un po' insomma perché le foto sono tutti un po' hanno visto le foto eccetera ma qual'è stata la tua esperienza il tuo viaggio diciamo così personale il tuo viaggio interiore e che ha questo viso facendo vedere tramite ti guarda personalmente in realtà quello che mi porto sono portata a casa è un bel bagaglio diciamo di stimolo nel senso che poter riuscire a fare va bene un'arrampicata del genere è stato il poter rivivere con l'emozione di stare in parete perché ovviamente l'arrampicata non me la porta indietro nessuno fisicamente su quello non ci piove però già solo il poter rivivere lo stare in parete rivivere tutte quelle ore con i tuoi soci quindi dalla preparazione al campo base ma anche prima la partenza la preparazione qua del viaggio la logistica l'organizzazione materiale il fatto di poter partire farsi sto viaggio fino in California saper di arrivare là vedere posti nuovi vedere una parete nuova saper di doverci stare su più giorni perché alla fine ci sia stati dai tre quattro giorni è stato un po' un rinascere cioè mentalmente veramente è un'apertura mentale che c'è uno stimolo proprio che probabilmente qua non sarei riuscita a ottenere in così poco tempo e invece il poter fare un viaggio del genere neanche un anno dalla fine della mia riabilitazione è stato veramente molto sì direi uno sblocco uno sblocco di tutte un po' gli stop che ti salgono in testa quando hai comunque un blocco fisico del genere perché non sai più cosa riesci a fare se riesci a fare quando riuscirei a fare e invece siamo partiti un po' in quarta e quindi poi sicuramente la cosa più bella comunque che mi sono portata dietro dalla California da quel viaggio oltre diciamo alla salita quindi oltre alla via sono le persone perché in Yosemite è un po' un luogo diciamo da vacanza da rampicatori nel senso che tu vai là ci sono tutti questi ragazzi dai giovani 30 a qualcuno 40 anni perché anche noi ormai eravamo sui 40 ma molto giovani anche tra i 20 30 anni tantissimi che sono là si sono presi del tempo sono là mesi tranquilli pacifici nessuno ha fretta sorriso stampato in faccia disponibilissimi ad aiutare quindi è veramente questo spirito di condivisione del progetto anche se non è un progetto loro ma felicissimi di farne parte anche solo per aiutarti a portare un saccone alla partenza della via e vedere la soddisfazione di questi ragazzi nel poter condividere anche solo un pezzettino di preparazione del tuo progetto è stato magnifico io con questi ragazzi alcuni di loro mi sento ancora ti dico robe che qua magari non mi sono mai successe perché qua tra lavoro è una cosa cerchi sempre di andare in montagna uno o due giorni di fretta fuori il prima possibile giù nessuno ti dia la priorità quindi anzi si faceva un po' la gara che attaccava per primo una cascata o una via per non aver sopra nessuno quindi è proprio un po' credo un'atmosfera generale di serenità e tra arrampicatori perché alla fine là sono tutti amanti dell'arrampicata e non per niente è il posto da cui è nata tutta l'arrampicata moderna comunque quindi credo che sia uno spazio un po' a sé stante in realtà che qua nella quotidianità non abbiamo occasione di vivere no? quindi il bello è anche quello il bello è anche voi che sapete trasmettere tantissimo insomma le vostre esperienze ed emozioni vi dico che in chat arrivano dei bellissimi complimenti per voi da Giovanni che dice siete mitiche piuttosto che da Roberta che dice che bello ascoltarvi non siete grandi siete enormi quindi insomma vi stanno arrivando un sacco di bei complimenti di cose di cose belle che vale la pena condividere adesso faccio una domanda un po' difficile la faccio a Dorota perché è tanto abituata a vivere aspetta perché insomma è abituata a vivere cose difficili rischiose e quindi la domanda difficile se la becca proprio lei e chiedo a Dorota che cos'è per lei l'avventura che senso ha l'avventura è la parola avventura what is for you adventure what does it mean adventure for you and so adventure adventure is something for me something some special unusual experience some exciting and the best is shared with friends and something what you bond you with them quindi l'avventura per lei è qualcosa si vede come lo dice di eccitante no che 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 la ispira specialmente se lo fa con qualcuno con cui ti siene con degli amici it is about going out of your comfort zone and when you can open yourself for some different experience and beauty of the life which can 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 the life can give you no matter which way you're going e quindi è uscire dalla zona di conforto da quello che uno sa fare fare le esperienze nuove e scoprire che cosa questo ti possa dare and doing something what you maybe normally wouldn't do not only exotic or dangerous you know adventure can be in everyday life e l'avventura non è non deve essere banalmente qualcosa di avventuroso esotico di diverso all'avventura la puoi trovare ogni giorno so my job is for me for me big adventure because I never know what will happen then I go home and then I go up the mountain and there is another adventure quindi il suo lavoro è un'avventura perché ogni volta che va a lavorare non sa mai che cosa succederà ma andare in montagna la stessa cosa è un'altra avventura perché non sa mai che cosa succederà or I just go through the tunnel to Italy and go for the best cappuccino and the best pizza oppure attraverso il tunnel da Salmoni a Courmayeur per il miglior cappuccino e la miglior pizza e quella è un'avventura and that's why with Anna and Eleonora for me every time we meet it's also like always adventure you know it's like writing the book together big adventure persuade Lola to do ice lighting big adventure you know get them to diving and keep them together and you know motivated big adventure quindi tutte le esperienze che ha fatto con Anna Eleonora sono state delle grandi avventure lo sliding lo diving tutto quanto è stata una grande avventura so it is all about let's go do it whatever it is just try it even if you don't know what is it exactly quindi qualsiasi cosa prova anche se non sai che cosa succederà thank you grazie a te grazie grazie a te penso che tu abbia dato una bellissima definizione di avventura che tra l'altro traspare anche molto in tutte le pagine del libro e prima di farvi l'ultima domanda dico una cosa che ho notato ma penso dai commenti in chat penso che l'abbiamo notata veramente tutti è che il vostro sguardo super luminoso di quando parlate delle vostre avventure anche di quando parlate l'una dell'altra e questa è una cosa veramente bellissima che c'è nel libro e che c'è anche questa sera quindi questa è una cosa veramente speciale e soprattutto in questo momento un po' particolare diciamo che stiamo vivendo un po' tutti ma ma direi che è veramente cioè è il colore diciamo quello sgargiante luminoso che ci aspettiamo dopo un white out quindi sono io che vi ringrazio non abbiamo ancora finito perché vi voglio fare l'ultima domanda secondo me non sono solo io che ve la voglio fare ma un po' tutti cioè l'avete un po' detto però chissà se è proprio quello cioè qual è il vostro progetto futuro insieme che cosa vi piacerebbe ancora fare insieme che cosa quale avventura quale nuova avventura ma vado io sì sì chi vuole e tutte e tre anche come volete voi nuova avventura ormai è diventata vecchia perché dovevamo già andare l'anno scorso però speriamo sempre di farla è quello di fare una spedizione sul lago Baikal questo enorme lago gelato che c'è in Russia e in Siberia e fare un'immersione una traversata un ice sliding e aprire una cascata di ghiaccio o perlomeno salire una cascata di ghiaccio una cosa che riusciamo a fare tutte e tre che che Lola può fare come ha fatto in Yosemite sul Capitan e sarebbe la nostra il nostro progetto futuro speriamo che le frontiere possano aprirsi velocemente se no ci inventeremo qualcos'altro volevamo fare qualcosa di simile dalle parti di casa nostra ma come sappiamo sono tutti chiusi in casa più che mai quindi adesso arriverà la bella stagione il ghiaccio ormai purtroppo non c'è più quindi o emigriamo in Siberia sì per cercarne ancora un po' e aspettiamo se no ci inventeremo qualcos'altro nel frattempo Eleonora o Dorota vogliono dire magari qualcosa in merito io pensavo a fare un ice sliding su erba quest'estate perfetto un aiuto no fermatela ah ma l'ha detto davanti a oltre 70 persone Eleonora quindi purtroppo ti do aiuto perché questo lo fa davvero se servono i campi da arare noi andiamo a smuovere la terra no è difficile io penso il nostro avventura sarà fare un grande avventura sulle montagne per incontrare si possiamo incontrare si possiamo incontrare sulla frontiera lei arriva da dietro noi da davanti Anna says you can meet on the border and you come up from Chamonix and she comes up from Kulmayer or we can learn to fly and maybe we can meet this way si non potete prendere un volo paragliding we can always paragliding la parapendia si può fare vi inventate un'altra disciplina oltre la sliding alla fine vi necessita virtù c'è il rischio andiamo sul lago Erba e sul Bernina si è ancora gelato sì in effetti in Svizzera si può andare scrive Giovanni Giovanni si sta traducendo a Dorota il Svizzera infatti adesso c'è c'è il toto il toto come sfuggire a questo a questo non white out ma lockdown ma poi finirà lockdown esatto assolutamente assolutamente bene io vi ringrazio veramente tantissimo perché è stata davvero una serata super ricca come lo è anche il libro forse non so se si capisce ma l'ho letto e per me è stato un libro stupendo e anche molto molto emozionante veramente ricco di tutto quello che c'è stato questa sera penso che insomma visto anche il momento che stiamo vivendo ognuno di noi si è portato a casa tanta audacia coraggio e speranza vedendo insomma come si suol dire i vostri occhi luminosi la vostra voglia di fare e di andare avanti l'ultimo l'ultimo commento proprio l'ultimo commento ognuna delle tre un saluto quello che quello che volete prima di di chiudere fatto da noi sì sì assolutamente sì sì assolutamente voi siete le protagoniste quindi è giusto che anche voi insomma quello che volete da Bergamasqua e da Lockdown l'unico messaggio sano in questo momento è il mai mollare il mola mia in tutto e per tutto qualsiasi cosa mai mollare sempre avanti giusto condivido da milanese condivido è un libro che è dedicato a chi crede nei sogni quindi mai smettere di sognare giusto vediamo se Dorota dopo aver ricevuto la traduzione and join them and go together oh thank you quindi Dorota dice che nella vita si troveranno sempre momenti di white out momenti dove non si vede dove si sta andando ci si trova persi non firmarsi mai trovare persone positive che ti possano aiutare a uscire dal white out bellissimo direi che ci lasciamo con questi tre messaggi quindi mai mollare condivisione di amicizie e i sogni innanzi innanzitutto quindi diciamo che ci salutiamo con questi tre bellissimi messaggi a nome del CAI Milano grazie tra l'altro ci mancherebbe un grazie anche da parte di Massimo Minotti che è il presidente del CAI Milano e che era in incognito tra i partecipanti e niente grazie grazie a tutti per la partecipazione per tutti i complimenti che ci avete fatto e che avete soprattutto fatto alle tre super donne protagoniste davvero grazie a tutti e buona serata grazie a te soprattutto grazie 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 ciao